Esercizio numero 12. Calorimetro massa equivalente in acqua 35 grammi con blocco 400 grammi ghiaccio fondente misto a 50 grammi d'acqua, ovviamente a 0 gradi centigradi essendo la fase di equilibrio tra ghiaccio e acqua. Si immette vapore acqueo a 100 gradi finché il ghiaccio non si scioglie tutto e tutta l'acqua raggiunge i 15 gradi. Quanta massa d'acqua alla fine si trova in totale nel calorimetro? Vediamo che la massa di vapore acqueo non è data. Per poter dire quanta massa d'acqua alla fine si trova nel calorimetro, in pratica bisogna calcolare quanto vapore acqueo c'era all'inizio. Infatti tutto questo vapore acqueo diventa acqua liquida e tutto il ghiaccio lo stesso diventa acqua liquida. Qui vediamo il vapore, inizialmente a 100 gradi, di cui non conosciamo la massa. Quindi sul grafico temperatura-calore partiamo dal punto C, tutto vapore a 100 gradi. Invece il sistema freddo è calorimetro con acqua mista a ghiaccio, quindi siamo sul tratto orizzontale della fusione. Quindi lo stato iniziale A si trova su questo tratto orizzontale più vicino alla fase del ghiaccio, perché c'è più ghiaccio, 400 grammi, che acqua, 50 grammi. Questo problema è diverso da quelli precedenti perché qui ci viene detto qual è la temperatura finale d'equilibrio, sono 15 gradi. Nei problemi precedenti invece era da scoprire. Quindi qui sappiamo che il calore ceduto dal vapore che condensa in acqua liquida e poi si raffredda fino a 15 gradi, questo calore ceduto viene assorbito dal sistema freddo che lo utilizza per sciogliere il ghiaccio e farlo diventare tutta acqua liquida fino a B e poi quest'acqua riscaldarla fino a 15 gradi. Allora uguagliamo il calore assorbito dal sistema freddo, QAB più QBE, al calore ceduto dal sistema caldo, QCD più QDE, naturalmente in modulo essendo dei calori ceduti, quindi negativi. Qui adesso in questa equazione scriviamo tutti questi quattro calori attraverso le due formule dei passaggi di stato e dei riscaldamenti. QAB è un passaggio di stato, quindi calore latente di fusione del ghiaccio per la massa di ghiaccio che si scioglie. Questo QAB lo possiamo anche scrivere con i numeri perché è il calore latente di fusione del ghiaccio per 400 grammi di ghiaccio che si sciogliono. QBE è il calore assorbito dall'acqua che si scalda di 15 gradi. Ricordiamo che l'acqua adesso non è solo 50 grammi ma è 400 grammi anche il ghiaccio che si è sciolto, quindi è la massa d'acqua 50 grammi più 400 grammi di ghiaccio che si è sciolto in acqua più la massa equivalente in acqua del calorimetro che si comporta come 35 grammi dal punto di vista dell'assorbimento del calore, cioè assorbe tanto calore quanto al suo posto assorbirebbero 35 grammi d'acqua. Quindi sommando queste tre masse otteniamo 450-485 grammi d'acqua in totale da moltiplicare per il calore specifico dell'acqua per i 15 gradi di riscaldamento. Ora passiamo ai calori ceduti. QCD è il calore che cede il vapore quando condensa tutto in acqua. Quindi è il calore latente di vaporizzazione, dovrei dire di condensazione ma tanto è lo stesso valore, per la massa di vapore che è sconosciuta. Ed ecco qua il calcolo, 2256 kJ per mv. Poi abbiamo l'altro calore, calore ceduto, ormai è tutta acqua liquida, il vapore non c'è più, che scende da 100 a 15 gradi, quindi scende di un salto termico delta T di E che è pari a 85 kelvin, da 100 a 15 gradi. Quindi questa formula del raffreddamento si calcola a calore specifico dell'acqua perché ormai è tutta acqua liquida, per la massa di vapore incognita per questi 85 kelvin di raffreddamento. Vediamo che l'incognita compare nella parte a destra dell'uguale, quindi al secondo membro. Questa è l'incognita, possiamo anche metterla in evidenza, volendo. Infatti lo facciamo qua, raccogliamo mv e a questo punto basta semplicemente svolgere i calcoli. Quindi 334 per 0,400 fa questo numero, kJ, questo calcolo fa un po' più di 30 kJ. Qui abbiamo raccolto mv, quindi rimane da fare il calcolo di questi valori numerici, che fa 2612 kJ su kg. Qua a sinistra la somma di questi due è 164,1, kJ si semplifica, l'incognita è la massa del vapore. Formula inversa, la massa del vapore è 00628 kg, circa 63 grammi. Dunque il vapore all'inizio era 63 grammi. Questi 63 grammi me li ritrovo qui, come acqua liquida a 15 gradi. E questi 63 grammi vanno a sommarsi all'altra acqua liquida, che sono 450 grammi, perché il ghiaccio si è sciolto tutto in acqua e in più c'erano 50 grammi d'acqua. Quindi 450 grammi d'acqua in E, più questi 63 grammi di vapore, che sono diventati acqua in E. Ed ecco qua la massa d'acqua totale, alla fine, a 15 gradi. 450 più 63, 513 grammi d'acqua liquida a 15 gradi. Inoltre, non dimentichiamo che c'era anche il calorimetro, che si comporta come 35 grammi d'acqua liquida. Però l'acqua liquida vera e propria è 513 grammi. Grazie.